Quest'anno, dopo due anni di stop per la pandemia, torna la festa di Maria Santissima delle Grazie a Roccella Ionica, una delle più importanti della pietà popolare nella Locride. Tante le novità di quest'anno. La prima, una a tre giorni al santuario, con la festa di Roccella, un santuario da vivere. Partendo già da questa sera, dove, alle 20, ci sarà la Sacra della Melanzana, a cura di Roccella Comera, con l'esibizione di Miriam Jane. Domani, sempre al santuario, con inizio alle ore 20, la Sagra del Pesce, a cura del Comitato Festa Maria Santissima della Grazia e l'esibizione di Armando Quattrone. Infine, domenica, 26 giugno, al santuario Maria Santissima delle Grazie, dalle ore 20, panino con salsiccia, a cura del Comitato Festa ed esibizione di Marcus Minus Peters de Bald. Ci saranno poi le quattro processioni della venerata effigie. Oltre a quella di mercoledì, dal santuario alla matrice, e del lunedì, dalla matrice al santuario, ci sarà un'importante novità per la processione solenne della festa, che per la prima volta verrà divisa in due. La processione per le vie cittadine, che di solito si teneva dopo la processione a mare, si farà invece sabato alle 19, alla vigilia della festa, mentre la processione a mare della domenica sarà per la prima volta di sera ed inizierà alle ore 19.30, con la messa a largo colonne, che sarà celebrata dal vescovo Monsignor Francesco Liva e che terminerà alle ore 21, quando ci sarà sul waterfront lo spettacolo Le Fontane Danzanti della Dominicis, che saluteranno la Madonna al termine della processione a mare. Un grande appuntamento che doveva realizzarsi nel 2020, ma che la pandemia non ha permesso.